Benvenuti da UNO TV. Questa è una puntata speciale perché io mi trovo in Brasile, nella regione di Santa Caterina, nell'isola di Florianopolis. Camminando tra il sole e le spiagge ho incontrato questo gruppo di musicisti molto bravi che adesso vi presento. Io sono Rob. My name is Rob, I'm the singer. And this is Chris, who plays bass. This is Mauro, who plays guitar and sings. This is Arthur, who plays the guitar. And this is Paolo, Big Paul, on the keyboards and trumpet. We play our own style of music, independent rock, and anything that comes into our heads at the time of making up the music. Que è questo Chirino? Quem è questo Chirino? Bom, il mar è il mar, tutto il mondo sape. Chirino è un personaggio, una persona qui sul da ila, che mora in una praia di Saquim, una praia che ha 4 habitanti, mora a ila e la famiglia, portanto. Una praia che non ha luce, che è ben al sul, isolato. E è una praia che frequentiamo. Vamos là con il metto, una pinga, giocare futebol. E fiziamo il nostro clipe, il mar di Chirino, anche. Quindi, abbiamo e inspiriamo il nome della banda, questa persona, che si chiama Chirino. Numa tardi, stavamo lì e... Perguntando pra ele come è che stava a pesca, ele respondeu, qui no mio mar a pesca vai assim. E achavamo bonito, poético, e pegamos, então, resolvemos dar il nome della banda, o Mar di Chirino. Come se il mar fosse propriedade dele, sì. Negócio bonito. Il già mi presentò, sono Cristiano, io também trabalho con... Io sono tecnico di son, io e Paolo, a gente, além di tentare tocare e tentare essere un musico, a gente tem questo studio, che è dove le cose succedono con il Mar di Chirino. A gente, il già parlò, il già miroquo, la musica è stata creata qui, e a gente ha terminato la mixazione della oggi. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti